Sindaco, da oggi a Chieti scuole chiuse fino al 27 febbraio, una decisione anche sofferta da parte sua ma probabilmente con i numeri di queste ultime ore non più rindiabile. Senz'altro sofferta, però inderogabile dopo l'improvvisa impennata dei contagi. Voglio ricordare i concittadini che da alcune settimane eravamo ad una media di 20 pazienti positivi al giorno. Da un momento all'altro la crescita di questi numeri è diventata veramente esponenziale con piccoli ma diffusi focolai di positività tra gli scolari sia delle scuole medie che delle scuole elementari. Quindi avendome ne fatta una personale preoccupazione condivisa con i dirigenti scolastici ne ho parlato con il prefetto e il prefetto ha avallato la mia decisione di chiudere le scuole per sicurezza. Ovviamente la decisione che mi è stata data personalmente dal presidente Marsiglio con cui abbiamo avuto vari sindaci una videoconferenza denota ed è venuta dopo i numeri che purtroppo ci sono stati di contagi. Anche qui suppongo che per il presidente ci sia stata una decisione sofferta ma purtroppo quando è importante bisogna prenderla.